Il PD analizza il voto dopo i ballottaggi di Chieti e di Avezzano, ma non solo, lancia a prossima generazione Abruzzo, che diventerà un vero e proprio progetto. In conferenza stampa, il capogruppo del PD in Regione, Silvio Palucci, il segretario Michele Fina, la presidente regionale del partito, Manola Di Pasquale, e i segretari provinciali di Chieti, Gianni Cordisco e dell'Aquila, Francesco Piacente, hanno parlato dei risultati elettorali che, a loro giudizio, premiano i territori e bocciano la classe dirigente regionale e soprattutto la Lega, che esce ridimensionata da questi ballottaggi con candidati, a giudizio dei presenti, calati dall'alto. Innanzitutto un risultato dei territori, una vittoria dei cittadini che hanno scelto sindaci nei quali si sono riconosciuti. Quindi non si può politicizzare una lettura, non si può perdere tempo in trionfalismi. Senza dubbio per noi è una svolta, perché l'Abruzzo dà l'idea di voler cambiare rotta, di fidarsi di persone serie, solide, che hanno progetti e radicamento nel territorio. Quindi per noi sarà un proseguo di lavoro, non solo ci sarà l'appuntamento elettorale di primavera prossima, ma c'è un lavoro, una ricostruzione di un'alternativa. Questo è il nostro principale cimento. Si è capito che questa regione si genera insoddisfazione negli abruzzesi. Noi vogliamo essere credibili per dare l'idea di una nuova regione possibile.